Siamo qui in Romania per questo campionato d'Europa individuale, ho convocato sei ginnasti. Due ginnasti che concorrono per l'allround sono Lorenzo Galli che è nella terza suddivisione e Stefano Patron di Mestre che ha fatto la prova podio e gareggerà nella seconda suddivisione. Qualche imprecisione a cavallo e parallelo che si può sistemare mercoledì. Sono due ragazzi che fanno qui il loro esordio nella categoria senior, quindi gli facciamo un grosso in bocca al lupo e sperando che questa esperienza porti buoni frutti anche per il futuro. Sono ginnasti molto giovani, oggi abbiamo fatto una buona prova podio, sicuramente siamo soddisfatti sia io che gli allenatori. Poi abbiamo qui i due veterani di questa spedizione rumena, abbiamo Marco Lodaddio impegnato agli anelli. Abbiamo reagito bene, abbiamo provato il campo gara e abbiamo fatto il nostro. Ovviamente adesso dobbiamo aspettare la competizione ufficiale, abbiamo molti avversari parecchio agguerriti su tutti gli attrezzi, quindi vedremo, noi cercheremo di portare a termine la miglior competizione possibile. Tommaso De Vecchis per gli amici Timmy che sarà impegnato al cavallo con maniglie, alle parallele e al suo attrezzo preferito, ovvero la sbarra. Diciamo che è stato già bello respirare quest'aria e prendere confidenza con gli attrezzi. Direi che è incoraggiante e non vediamo l'ora di gareggiare. Nella seconda suddivisione invece avremo anche Marco San Ruggerio. In gara farò quattro attrezzi che sono corpo libero, cavallo con maniglie, anelli e parallele. Carlo Macchini impegnato alla sbarra, attrezzo nel quale ha vinto, ricordiamo, la medaglia d'oro agli Eioff. Inizieremo a sbarra, quindi sono fortunato perché mi tolgo subito il pensiero. Diciamo che oggi è andata piuttosto bene, mi sento bene con questa sbarra, delle buone sensazioni, siamo fiduciosi, vediamo che cosa succede. Sono Lorenzo Galli, faccio qui al campionato europeo individuale la mia seconda gara con la squadra nazionale senior e sono molto emozionato per questo. Anche stare a confronto con gente che prima comunque vedevo solo in tv o sui social network, insomma, è una cosa molto emozionante, per questo sono molto contento. Comunque siamo pronti per la gara, insomma. Comunque siamo pronti per la gara, insomma.